Salve a tutti ragazzi e bentornati qui su Quei Due Sul Server 2 con Zuma's Revenge Questo gioco che vi è piaciuto tantissimo e non riesco a capacitarmi Comunque, giochiamo Abbiamo la nostra ranocchia e bangete Come al solito dobbiamo cercare di spaccare tutte queste dannate file di palline E impedire che arrivino alla fine verso quel teschio che vedete qui in basso a... Cioè in basso, in alto a sinistra, più o meno in alto Dai cazzarola Sta cominciando a diventare complicato, fanculo Che cosa... Bello, bello, ok, ok, ok Si cominciano a sbloccare dei poteri, sì Bene Uh, che culo Bang All'inizio mi era un po' difficile capire il senso di questo Zuma's Revenge Adesso è molto più chiaro Uh, cecchino Bellissimo Ok, ho preso... Perfetto, perfetto Posso mirare le cose con questo, è bellissimo Ok Ok Ma che cazzo ho sparato? Via... 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 Via e... No! Ho sbagliato! Che cazzo sto combinando? Si... 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 Ho visto che ci sono delle pallette che ti danno dei potenziamenti, minchia quant'è lunga, ok, partiamo dai blu, altri blu, devo trovare altri blu, altri blu, eccoli qui, ok Non sta andando male, sto avendo fortuna, mi stanno uscendo delle palline, vaffanculo come si muove Torco due, ok, fortunatamente ho beccato un'esplosione Qui, qui, bisogna averci una prontezza di riflessi che fa paura perché adesso sta cominciando a diventare molto più rapido il gioco Spettacolare quella cosa speciale, no ho fatto una cazzata, una cazzata alla quale posso rimediare con facilità Sì, ciao Dai cazzo l'ananas, non riesco a prenderlo Ottimo Sì, eliminato e Sì Coggiuta Sta avanzando, sta avanzando No La cazzata, ecco la cazzata Stare attento, ok, ok, le faccio tornare indietro Quel coso salva la vita Sì Lento Ah, ok, quando prendo la palletta col simboletto della manina Boom Rallento tutto Una cosa ottima Sì Via la coda Via la testa Via la coda Via questo e sì Ok È ancora fattibile, è ancora molto molto fattibile Zuma's Revenge qui Credo che adesso nella mappa ci sia una particolarità Infatti Alcune palle possono passare attraverso quella specie di ponte Sì, preso l'ananas Sono comunque dei geni quelli di bocca No Che cazzo ho fatto Sono fatto prendere dalla Dalla voglia di sparare palline A cazzo di cane, ok Riescono a creare sti giochi Che sono una droga Cioè non ti ci staccheresti più Sono pericolosissimi E questi sono I giochi che andavano molto forti Nelle sale giochi dell'epoca O perlomeno Andavano molto forti Soprattutto tra le ragazze E i giocatori più casual Perché Diciamo che il giocatore più agguerrito In genere puntava agli action Sapete, quelli un po' più Un po' più avventurosi Questi invece erano tipici giochi da Da signorina Ma non perché Fossero da Da donne in effetti Ma perché Erano giochi un po' più delicati Ma non facili All'epoca le videogiocatrici Davvero erano toste No Madonna che ho fatto Cazzo Ah ma siamo vicini alla BAM Credo che Io mi stia comportando bene Ora non conosco bene Questo Zuma's Revenge Non so cosa mi aspetta Ci sono addirittura Nooo Devo tenere da conto Due file Cazzarola Che disastro Questo è un vero casino Non prima Ok Io mi si sta Splittando il cervello Giuro Non capisco dove devo guardare Disastro Ok Spero di Starmi comportando bene Non lo so mi sta venendo l'ansia Dai 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 Sì Ok Perfetto Ho fatto tornare indietro tutta la fila Bello Bello Cazzarola No Mi ha fatto la puttana Perfetto Eh Non arrivarci Non arrivarci Stronzo Ok Bello 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 Via Via No Capù È un casino adesso No Due file da seguire Sono difficilissime Sì Vai vai Cosa di precisione Sì Non è utilissimo Rispetto ad altre cose È meno utile Però Almeno ti dà La sicurezza di colpire Dove devi colpire Boom Oh Ottimo Sono guadagnato Una bella retromarcia Sì Che culo ragazzi Sono stato Veramente Sculato Precisione Questo giro No Cazzo Lento Vai Eppure retromarcia Madonna ragazzi Sto andando veramente bene Adesso Perché si sta allentando La pressione Sì Va bene Va bene Noi ci vediamo al prossimo gameplay Che immagino sarà Molto tosto Per il momento mi sta piacendo un sacco questo gioco Mi sto divertendo un casino Noi ci vediamo al prossimo